Andiamo al taglio. Vai apri apri. È proprio buono, guardiamo. È buono eh? È buonissima. Buono? Buono. Buona Pasqua, veramente. Favorito. Ecco qua. Eccolo fumatissimo. È cresci il fungherino. Guardate qua che spettacolo. E teniamo ancora un dolce zucchero a Pasqua. È tutto, è Pasqua. Mi fanno un dolce per Pasqua. Un castellino dolce, va bene? Ok. Prima cosa, il lievitino sarebbe un prefermento, va, chiamiamolo prefermento. Mettiamo subito 10 grammi di lievito all'interno di 60 grammi di farina. Lo mettiamo nella prima parte d'acqua. Questo sarà un prefermento liquido, così dopo, quando lo andiamo a mettere dentro all'impasto del castello dolce, non abbiamo i grumi. Sciogliamo bene tutti gli elementi e creiamo una pastella, il lievitino, una pastella. Una pastella che andrà a fermentare e ci darà morbidezza. Usate una forchetta. È brutta come una crema. Perché la forchetta è l'unica che vi schiaccerà grumi e soprattutto fa allegare i lieviti con la farina. Stai vicino a Gigi? Mi sto imbarbando molte cose. Sigillate per bene il contenitore con la pellicola, in modo che non passa aria e cresce. Eh sì, c'è la sua camera fermentativa, la sua camera di lievitazione. Lo lasciate quattro ore a caldo, lo vedete voi, insomma, da qualche parte in casa, non lo mettete fuori al balcone. E poi lo utilizzeremo per far fermentare il nostro prodotto. Ricordate il lievitino che mi ha fatto? Eccolo qua. Ecco qua, ha fermentato. Bello. Adesso Zia Teresa mi devi spaccare 10 uova. Ecco qua, 10 uova, mamma mia. E non facciamo prima se ci prendiamo una gallina sana. È vero. Però dopo era una uova calda. Mentre Zia Teresa spacca le uova, io ci verso lo zucchero. Quanto zucchero? È tanto, è tanto. Tanto, eh? Sono un 300 grammi. Allora, guardate qua. Il cucciaio. Si va. Intanto abbiamo montato le uova, io ci metto cucciai di prefermenti. Il nostro lievitino che ci siamo fatti prima. E Zia Teresa mette gli aromi. Un po' di arancia e un po' di strega. Ovviamente andate i cauti perché sono forti. Esatto, va bene così. Un po' di strega e un po' di arancia liquida. E va bene così. Brava Zia Teresa. Ti facciamo sciogliere il lievitino. Zia Teresa hai appena lavato le mani, ho visto. Ok. Perché è andata a me. Tu devi prendere la mia crema. Un altro di questo. Alla fare le manate in sogna. Si, si. Due di queste. E basta così. Bellissimo. Saranno circa 200 grammi. 150 grammi, va? 150 grammi. Ovviamente. Non abbiamo guardato la dieta. Non è cosa quando è Pasqua. No. Dobbiamo mettere la farina. Eh si. Poco alla volta e formiamo l'impasto finale. Ecco. Così. Perfetto. Vai Zia Teresa. Vai vai. Farina. Zia Teresa è un chef molto speso. Chi è la farina? Eh ma purtroppo che stai facendo? E' Pasqua. E' Pasqua. E' Pasqua. Perfetto Zia Teresa. Zia Teresa mettiamo anche un pizzico di sale. Sì. Appena messo. Un pizzico di sale. Appena messo. Guardate qua. Buona che la crema di pasticcera. Bellissimo. Adesso finiamo di mettere la farina. Ho dato il cambio a Zia Teresa. Sei stancato Chef? Eh sì. Facciamo un po' per uno. Da stamattina. Allora, abbiamo già... Mi hai ristruttato. Inzzugnato. 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 Senza pepe. No, senza pepe. E' dolce. E' dolce. E' bello. E' bello. Adesso. Mettiamola anche a lui. Ok. Deve andare a dormire pure lui. Chef. Andiamo a tornare. E' pronto. E' pronto. Ma facciamo... 200 gradi un'ora. E' un'ora. E' un'ora. Ecco qua. Eccoci qua Zia Teresa. Siamo arrivati anche a lui. Casatiello dolce. Eccolo qua. Eccolo qua. Più dolce di lui non ce n'è. Ecco qua. Madonna mia. Zia Teresa. E' fumatissima. E' cresci i fonghi. Guardate qua. Guardate qua. Eccolo qua. Ah bella. Eccolo qua Zia Teresa. Mamma mia. Bellissima come trovi. Andiamo a girare sotto le coppe. Chef adesso. Eccoci. Qui abbiamo gli albumi. Esatto. Cosa dobbiamo fare? Mettiamo lo zucchero a velo. Per creare la nostra glassa. Vai. Adesso andiamo a glassare. Glassatura. Il nostro ciambellone. Che bello. Guardate qua. Maronna mia. Che spettacolo. Oh è un sogno da vedere da questa cosa. Io lo so. Aggiungi i corallini. Sì sì. Corallina a qua e corallina alla. Guardate qua che spettacolo. Gigantisco. E teniamo un po' di zucchero a parte. È tutto. È Pasqua. Andiamo a provare. E andiamo al taglio. Vai apri apri. Ecco qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Maronna mia. Sono emozionato. Sono emozionato. Sofficissimo. Troppo buono. È buono eh. È buonissima. Buono? Buono. Buona Pasqua veramente. E ancora fumante. Ancora fumante. Il casariello dolce. Buonissimo. Favorito. È un consulato.